Tra qualche giorno celebriamo la solennità della Epifania. In questa solennità sentiremo parlare di Re Maggi, sentiremo parlare di Doni, sentiremo parlare di una stella. Lasciandoci accompagnare da alcune parole, come stiamo facendo in quest'ultima puntata di Paolo VI, vogliamo anche noi seguire la stella come i Re Maggi, per andare incontro a questo bambino, a questo Emanuele. Al Dio che è nato. Ma sentiamo le parole di Paolo VI, parole che prendo dagli scritti personali. E sì, la nostra vita è una continua ricerca nella notte di un invincibile mistero. Ed è vero, noi ogni giorno ricerchiamo. Il senso del nostro essere qui, il senso delle nostre scelte, il senso stesso della nostra fede, il senso del nostro amore, il senso dei nostri amori, il senso del nostro essere genitori piuttosto che essere figli, piuttosto che essere educatori, piuttosto che essere ministri della Chiesa. Il senso della vita, nella notte cercare il senso di un invincibile mistero, cioè un mistero che ci sovrasta. Ma non dobbiamo temere questo mistero, perché il mistero di cui sta parlando Paolo VI è un mistero d'amore. Continuiamo. Cerca chi prega, cerca chi lavora, cerca chi ama e chi soffre, e chi studia e chi viaggia e chi traffica. Cerca ognuno che vive. Tutta la nostra vita è un cercare. È un cercare la verità, è un cercare la giustizia, è un cercare l'amore, è un cercare la felicità, è un cercare la gioia, è un cercare attraverso quello che facciamo, quello che siamo. Lo studio, il lavoro, l'impegno in politica, la sofferenza. Solo Dio sa quante persone che soffrono nel fisico e nello spirito, quante persone cercano il senso della loro sofferenza. E poi conclude nostro Paolo VI. Ed io penso che questa notte, finalmente, ognuno può incontrare ciò che cercava. Incontra l'incognito, immenso complemento che gli mancava. Incontra la soluzione di ogni difficoltà, il conforto di ogni dolore, il perché di ogni progresso. Incontra la salvezza, il gaudio, la pace. Incontra Cristo. Come i magi seguiamo la stella. Per noi la stella è Maria, per noi la stella sono i Santi, per noi la stella è la luce del perdono, della pace. Come i magi seguiamo la stella per continuare a cercare e trovare Gesù. E una volta trovato, continuare ancora a ceccarlo, ancora e per sempre. Ci vediamo domani. Parli più TV, dritto al cuore. Ciao a tutti. Grazie. 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 Grazie.